Il nemico cattura Charlie Nuove il nemico in zona Prendiamo Alfa Il nemico ha due obiettivi, liberate quelle postazioni Stiamo perdendo Charlie Faccio una granata моo scopo non aiuto Il nemico in zona Vedi e il nemico in zona In zona Vedi e il nemico in zona Il nemico in zona Il nemico in zona L'amore è sicuro Il nemico in zona Il nemico deve avere un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti.